Raccontare l'Italia Io ho avuto il privilegio di poterlo fare, o almeno ho cercato di farlo, attraverso la colonna sonora del film di Gabriele Salvatores, Italina e Dei. Colonna sonora che condivido con i miei amici sodali, The Producers, abbiamo cercato di raccontare musicalmente il paese. Il film lo racconta attraverso le immagini, l'idea è molto bella, nata da Ridley Scott, una sorta di format che lui ha dato da realizzare nei vari paesi, in questo caso Gabriele Salvatores premio Oscar. Sono arrivati quindi 40.000 filmati girati dagli italiani stessi, lo stesso giorno. Questo era il compito che avevano, girate la vostra giornata, la vostra vita, di modo che si creasse un affresco collettivo del paese in quel momento, ma molto rappresentativo perché si passa da episodi di vita quotidiana molto concreti, molto semplici come il mangiare, l'andare al lavoro, i rapporti con i familiari, e al tempo stesso anche a momenti molto profondi e molto catartici come la nascita, quindi una nursery, una sala parto o anche la terapia del dolore, le persone che si avvicinano alla fine della vita. Tutto questo crea veramente un affresco del paese molto variegato. E quindi in questo senso raccontare un paese, una nazione, è un compito bello arduo. Lo avrete anche voi del Padiglione Italia questo compito. Dal punto di vista più strettamente musicale, subito abbiamo capito insieme a Gabriele che c'era un problema di modalità. Di solito in una colonna sonora si cerca un tema, uno stato d'animo, che rappresenti una sorta di costante all'interno del film, di modo che anche dal punto di vista sonoro ci sia uno stato d'animo che lo racconta in maniera omogenea. Abbiamo però trovato un grande problema, cioè che tutti questi frammenti avevano una fortissima verità, ognuno preso a sé stante. La nascita di un figlio, la morte di una persona, un medico che va a curare i bambini in Afghanistan, sono potentissimi nella loro verità, imbattibili da qualsiasi attore, perché sono frammenti di verità, frammenti di vita vera. E invece la colonna sonora è come se mettesse l'autore, il regista e l'autore, dalla musica al di sopra di questa verità e la ammantasse di uno sguardo un po' esterno. Gli fa perdere di forza e di verità. Cioè c'è una mediazione, un'interpretazione. Abbiamo capito subito che quindi non funzionava questa modalità. Questo si è tradotto nel seguire ogni singola situazione con la sua sonorizzazione, con il suo suono. Si è tradotto in più di 40 temi molto variegati, uniti da una parte stilistica che ovviamente noi da artigiani del suono siamo riusciti a dargli. L'idea mia è stata quella di riuscire a dare una nota, un qualcosa che fosse però costante all'interno del film, all'interno della colonna sonora. e ho pensato alla cosa più semplice, più basica. Una nota sola, ripetuta. Attraverso questa nota sola, che fa un po' da trade union di tutte le situazioni, poi attorno cambia il paesaggio sonoro, l'armonia, la timbrica, l'arrangiamento, la melodia, ma sempre con questa sorta di nord, dato da questo do centrale che c'è in quasi tutti i temi del film. a tutti i temi del film.